Sto registrando questo video quando ormai mancano veramente pochissimi giorni al termine del mio percorso universitario se stai guardando questo video ci dica che quel giorno è arrivato vorrei fare dei ringraziamenti un po' diversi da come si fanno di solito a modo mio vorrei rivivere insieme qualche ricordo di questo viaggio prima di tutto però vorrei ringraziare la mia professoressa Simona Bordoni per avermi guidato in questa ultima fase della magistrale per la sua gentilezza e disponibilità nella scrittura della tesi e vorrei ringraziare anche la mia famiglia che sciolta dovidere una famiglia abbastanza normale uguale papà il mio supereroe preferito mamma la mia psicologa preferita mio fratello Tommaso che ormai è diventato grande quanto me Zacc Francesca per essere sempre stati al mio fianco e aiutato nei momenti di difficoltà ci tengo anche a ringraziare tutte le persone con cui in questi anni ho passato veramente dei bei momenti in particolare vorrei soffermarmi un attimo su Via Canestrini una menzione speciale per i miei coinquilini Bordi il mio capitano colui che mi ha insegnato e tramandato lo spirito di Via Canestrini Chico ultimo arrivato dalla casa ma amico fin dall'infanzia sono un po' macchi questi qua eh Riz la prima persona che ho conosciuto il primo giorno di università e che dopo 5 anni è ancora qui Tommy il mio maestro in tutti i sensi personal trainer mental coach e colui che mi ha tramandato questa passione per i video e poi c'è lui ultimo ma non meno importante Fafo un fratello più che un coinquilino un grazie va anche a tutti i ragazzi di questa bellissima compagnia che si è creata in questi anni qui a Trento special thanks also to Sara Stefan and Carlo for the six fantastic months we spent in Innsbruck grazie anche a tutti gli amici con cui ho vissuto esperienze al di fuori della vita universitaria ne abbiamo passate veramente tante e vissute tutte perché come diciamo sempre in Via Canestrini infine noi facciamo la vita più bella del mondo ciao 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 Grazie a tutti